Marinare, bottare, fare forca, tagliare, bucare, schissare, tanti modi a secondo della parlata regionale per identificare il termine usato per chi salta la scuola, per chi ha le lezioni preferisce magari la scampagnata con gli amici piuttosto che trovare il modo per evitare l'interrogazione o il compito in classe di quelli particolarmente difficili. È un'abitudine che si perde nella notte dei tempi. Da sempre gli studenti hanno provato l'emozione del saltare la scuola, di prendersi senza farlo sapere a casa un'ora o intere giornate di riposo. Marinare, notare ed altri modi per dire sempre ed esclusivamente la stessa cosa. Oggi non ho voglia e faccio vacanza. Quante firme false, quante giustificazioni magari firmate dal vicino di banco o dalla zia compiacente. Anche questa è storia e nello stesso tempo attualità. Spesso fughe innocenti con qualche punta di vigliaccheria che pone lo studente di fronte al rischio del brutto voto e pertanto della voglia di evitarlo. Ma oggi esistono anche gli studenti fantasma, non soltanto quelli che marinano per un giorno. Sono quelli che si iscrivono a scuola ma tra i banchi non si sono mai visti. Il caso più vistoso si è registrato alla Spezia, dove al polo professionale in Audi Chiodo il preside ha denunciato che sono 750 gli studenti iscritti ma mai visti in un anno. Una rapida indagine ed è saltato fuori che la maggioranza degli studenti fantasma sono immigrati che per restare in Italia hanno chiesto l'iscrizione a scuola per poi marinarla tutto l'anno.